Ciao a tutti da Vittorio, appena finita Lazio-Clubbruch, la Lazio passa il turno ma prestazione inaccettabile, veramente non ci sono giustificazioni per una performance da genere. Il Clubbruch non è Real Madrid, il Clubbruch ha giocato in 10 per tutto il secondo tempo e parte del primo, eppure la Lazio si è letteralmente cacata sotto. Avanti, dopo 10 minuti, dominando i primi 10 minuti, sembrava dovesse essere una passeggiata, bel gol di Correa, da quel momento il panico più totale. Alcuni giocatori della Lazio se la sono letteralmente fatta nei pantaloni. Luis Felipe imbarazzante, Hötte che regala Gialli così, veramente una serie di giocatori che purtroppo se giocano così non possono giocare a certi livelli, perché il Clubbruch non ha nulla da perdere e ci ha provato. E prima è arrivato il regalo di Reina, gol paperissima del portiere, se leggo altri che dicono che Reina è più forte di Stragoscia, cancellatevi dal mio canale. Paperissima di Reina che ha consentito al Clubbruch di pareggiare, poi altra invenzione geniale di Ciro Mobile che rimedia un rigore nettissimo ma genialato di Ciro Mobile che poi trasforma sul rigore. Secondo tempo in cui la Lazio parte bene, gestisce, controlla, sembra poter gestire il pallone, e invece poi all'improvviso il blackout clamoroso. Ma il blackout si vedeva nella faccia dei giocatori. Luis Alberto, fantasma anche oggi. Luis Felipe che si vedeva, c'era una paura in faccia che sembrava avesse visto, non so, un film horror. Veramente giocatore pessimo, pessimo, oggi malissimo. Lazzari pure, insomma, ha giocato bene, ma Luis Alberto non ha fatto niente. Un'altra volta Luis Alberto non ha fatto niente. Correa nel secondo tempo in fantasma. E quindi il Club Bruccia ha ringraziato e ha trovato il gol del pareggio nonostante si stanno in inferiorità numerica. E nel finale addirittura il Club Bruccia ha preso anche la traversa in inferiorità numerica alla Lazio questa partita, la doveva vince 5-0. E invece, purtroppo, non basta essere più forti. Bisogna anche avere le palle. Questa squadra ha dimostrato che togliamo Milinko e Ciro Mobile, gli altri si sono cagati sotto. Gli altri si sono cagati sotto. Oggi alla Lazio gli ha detto molto, molto bene. Bisogna essere onessi. Si passa il turno di Champions League, ma se questo è l'andazzo al prossimo turno andiamo fuori facilmente. Ci vuole gente con le palle. Purtroppo Luis Alberto, grande tecnica, ma nelle partite importanti non c'è. Oggi Mico e Savic ha giocato con i cinque, perché Luis Alberto giocava con gli altri. Correa giocava con gli altri. Luis Felipa giocava con gli altri. E giocava con gli altri. È stato veramente un disastro. Reina, vabbè, non lo miniamo neanche più. È stato un disastro, ragazzi. È stato un disastro. Ci siamo salvati, siamo stati fortunati, perché veramente oggi la Lazio ha fatto di tutto per perdere. E la cosa assurda è che la Lazio, per 70 minuti, ha rischiato anche di arrivare prima nel girone, perché dall'altra parte Borussia Dortmund ha perso, stava perdendo. Ma Borussia Dortmund è una squadra con le palle, ha rimontato lo Zenit e è andato a vincere. La Lazio si è cagata sotto e ha rischiato clamorosamente di perdere. È una cosa inaccettabile. Godiamoci la qualificazione, perché altre squadre in Champions neanche ci sono arrivate. Dopo 20 anni la Lazio supera il girone, ma così non va assolutamente bene. Abbiamo detto che in Champions la Lazio giocava da Lazio. Beh, oggi la Lazio ha giocato da squadretta e ha rischiato grosso. Ciao, alla prossima.